Pisellini, Vaginelle! Bentornati ad una nuova edizione di Review, il video dove commento gli episodi di RuPaul's Drag Race, arrivato alla quarta edizione di All Stars, ovvero la stagione dove alcune passate concorrenti si sfilano per ottenere un posto nella Hall of Fame del programma. Prima che mi bombardiate di commenti tutti uguali perché non leggete mai le risposte che do alle altre persone, vi dico chiaro e tondo che non ho idea di dove possiate guardarvi le puntate. Non sono più affiliato a canali Telegram o altro, quindi non chiedetemelo. Anche perché qualunque metodo decidiate di utilizzare è sicuramente illegale, quindi io sul canale non posso pubblicizzarlo se no mi bannano a vita dal pianeta Terra. E' chiaro adesso? Cercate su Google come fanno tutti i mortali e Peace and Love tutta la vita. Ma torniamo a noi alle nostre travestitone preferite. La prima ad entrare è quella matta col botto di Monique Hard dalla stagione 10, con questo completino un po' madonnina da comodino della nonna. Subito dopo arriva Trinity Taylor dalla stagione 9, con questo verdissimo abitino frikifrappa in plasticazza non biodegradabile. A seguire troviamo la scosciata Naomi Smalls dalla stagione 8, con questo splendido body impacchettato nel tulle di un bel colore viola quaresima che ben si sposa con quelle labbra pneumatiche che si è appena comprata. You can't spell legendary without leg. Riappare poi Monet X Change, anche lei appena uscita dalla stagione 10, che si presenta con questo trasparentissimo body nero su nero che fa molto mercatino della noia. A black jumpsuit like a leotard? It's not stunning. Fa poi il suo ingresso Gia Gunn dalla stagione 6, con questo completino un po' mignottone ecclesiastica, che diventa ufficialmente la prima concorrente transgender del programma. E su questo sprecherò giusto due paroline più tardi. She is shady. She's not the same person. She's worse. Ritorna anche Feramon, sempre dalla stagione 9, che si presenta di nuovo con un micro abitino paiettato da subrettina di Las Vegas con tanto di chiappa al vento. America, if you gonna have your ass out, it's supposed to look like J-Lo, not like Mr. Rogers. Per la gioia dei suoi fans rientra anche Jasmine Masters dalla poco amata stagione 7, che effettivamente è stata piuttosto bruttina, con questo taglio di road floreale a dicembre a vanguardia pura. Conclude poi questa riunione delle fan favorite delle ultime stagioni, Valentina dalla season 9, sempre bellissima anche con questo orribile sacco da monnezza cotur de sta ceppa, che starebbe malissimo a qualunque creatura dotata di buon gusto. Con una finta mossa sorpresa, RuPaul fa entrare in gara anche l'attrice Royale e Manila Luzon, il team Latrilla, già concorrenti di All Stars 1 e rispettivamente della stagione 6 e 3. Permettetemi di dire che qualunque cosa succeda per me hanno già vinto l'ora a prescindere. Punto. Adesso facciamo un momento di pausa per spiegare bene la storia delle trans e di RuPaul's Drag Race, perché credo sia importante mettere le cose nel loro contesto. Dunque, un giorno RuPaul, durante un'intervista, riferendosi a Pepper Mead della stagione 9 e al suo futuro nel mondo drag televisivo, ha detto che le persone transgender che hanno iniziato il processo di trasformazione fisica non possono essere accettate nel programma, affermando anche che puoi prendere gli steroidi ed essere ancora considerato un atleta ma non alle Olimpiadi. Questi commenti hanno suscitato l'ira del mondo transgendere e di tutti i paladini della giustizia LGBT. Soprattutto ha mandato su tutte le furie le tante ex concorrenti che si sono identificate come transgender. Ha analzato così tanto la voce, così tante persone, che RuPaul è stato costretto a retificare quello che ha detto e ad aprire le porte alla nuova categoria di drag transgender nel programma. Gia Gunn, che adesso è una donna a tutti gli effetti, è quindi la prima vera e propria concorrente transgender. Da non confondersi con le precedenti concorrenti che si sono identificate come transgender, ma non avevano mai iniziato il processo di transizione fisica. Unica eccezione è Sonic, che ha preso parte alla maxi pubblicità del nuovo album natalizio di RuPaul, spacciato come episodio speciale di Natale, che ho volutamente evitato di commentare. A mio parere tutta sta storia è un po' una menata colossale. Perché prima di tutto RuPaul stava solo parlando di quello che sono le regole del programma. Non ha detto trans cattive caccapupù! Farlo passare come il transofobico supremo è davvero inutile ed esagerato. Personalmente poi sono piuttosto interdetto su sta cosa, perché nella mia testa una drag queen è un uomo che si traveste da donna per spettacolo. Onestamente non penso che una donna che si traveste da donna per spettacolo possa essere sullo stesso livello per ovvi motivi fisici. Perché se l'uomo drag viene giudicato sull'illusione che riesce a creare, una donna drag ha confronto a molte più probabilità di vincita. Poi ovviamente nel mondo reale sono a favore di qualunque tipo di espressione artistica senza limitazioni o distinzioni. Ma reputo che all'interno di un programma televisivo o di una competizione, ci debba essere un regolamento che a piani le divergenze metta tutti sullo stesso livello. Io capisco che questo è un programma televisivo che può e che sta cambiando la percezione che si ha del mondo LGBT a livello globale. Però è pur sempre uno show e non la vita reale. Tutti sti casini vanno fatti nella vita vera, non in un programma televisivo. Se vogliamo che sia più inclusivo, allora deve cambiare proprio il programma stesso. Non deve basarsi più sull'apparenza ma solo su determinati talenti artistici che vanno al di là dell'illusione estetica. E questo è il mio personalissimo parere sulla vicenda. Ora, per calmare le acque, vediamo quanto ce la faranno a fettine e sottili sottili con sta storia di Jagan. Ma torniamo adesso alla gara. Le regole della stagione rimangono invariate rispetto alle precedenti stagioni di All Stars. E due vincitrici della settimana si sfidano nel lip sync per vincere 10.000 dollari e la possibilità di eliminare le due o più perdenti della puntata. Quest'anno però a me sembra che siano già partite molto più agguerrite del solito. Monet Exchange, the sponge queen. Yo! Too bad you couldn't soak up a win. Forse perché la maggior parte delle concorrenti sono scarti delle ultime due stagioni che stanno cercando a tutti i costi di ottenere una corona in modo da poter continuare a lavorare. Jasmine, c'è! Welcome to a season that somebody will give a shit about. Notiamo infatti un elevato livello di acidume tra di loro. Paramount is so dumb. She thought Valentina was her best friend. Anche perché in questa puntata la sfida principale è la gara dei talenti e più o meno segretamente si domandano quali siano i talenti delle altre partecipanti. Let's be honest. Paramount, she's not that talented. I mean, what's her talent? E io direi che è il caso di andare subito a giudicare le loro esibizioni. Monique, si esibisce live con la sua canzone Brown Cow Stunning, ovviamente vestita da mucca. Sinceramente non mi è dispiaciuta. Apprezzo che abbia, tra virgolette, cantato dal vivo e mi piace molto la sua energia. Naomi, anche lei propone il suo singolo Pose con questa performance sfilata un po' alla non so cosa fare quindi faccio le robe scontate che a voi piacciono. Lei bella sempre con questo look dal telefilm Pose, noiosina l'esibizione, ma divertente quando si strappa la parrucca e rimane pelata in mio onore. Gia, lei si esibisce in una danza tradizionale giapponese ed è indubbiamente molto accattivante e ben realizzata. Oltre ad essere impeccabilmente bella, la cura per i dettagli è straordinaria, anche se forse non è la scelta più giusta per questo tipo di programma. Trinity, adesso che ha abbracciato completamente l'idea di essere una comica nata, lei ci presenta questo tutorial cantato su come fare un tac estremo. Davvero carina e divertente. Peccato che fosse tutto il tempo dietro al siparietto e questo mi ha un po' ammusciato. Fera, la sua specialità è il burlesque e da come si presenta promette davvero molto bene. Il trucco è perfetto, gli abiti molto belli, scenografia azzeccata, tutto procede bene finché E' chiaro che si sia fatta parecchio male perché finisce l'esibizione tremando e un po' mi spiace per lei. Monet, anche lei canta dal vivo ma avrei preferito che non lo facesse. Ah raga, non ve lo posso far sentire ma stonata come un rutto a capodanno. Ovviamente presenta la sua canzone sulle spugnette e sui suoi finti death drop. Carino ma niente di eccezionale, c'è anche basta con ste spugnette. Manila, lei dipinge, un po' trita e ritrita sta cosa che fanno i pittori rapidi dove sembra che stiano solo scarabocchiando e poi girano il quadro ed è un vaso di fiori con vestito abbinato. Cioè noia, però è Manila e quindi mi piace lo stesso. Jasmine, il suo talento è stand-up comedy improvvisata perché è abituata a fare video virali improvvisati che fanno tanto ridere però dal vivo non funziona per niente. Where are the jokes? L'attrice, pure lei cede all'esibizione di una sua canzone e sono sinceramente sbalordito di vederla così tanto agile. E si sbandiera tutto il palco quindi mi piace un sacco. Valentina, ennesima canzone autocelebrativa in cui lei passeggia da una parte all'altra del palco facendo la velina. C'è poco da dire, lei è fighissima come po' che sembra molto Jennifer Lopez però... Nella bottom two finiscono Fera, anche se la cosa non la trovo proprio giustissima visto che è stato un incidente, altrimenti l'esibizione sarebbe stata anche piuttosto carina. E Jasmine che invece ha fatto proprio schivettino eh. Le due micitrici che si sfidano al lip sync sono Monique e Taylor che dovranno poi eliminare una delle due perdenti. Nel backstage fanno quattro chiacchiere con loro e da un lato abbiamo Feraemon eccessivamente emotiva. Dall'altro abbiamo una Jasmine Masters fin troppo scialla. Sembra quasi che non le importa se vince o perde. Il lip sync non è dei migliori. Sulla canzone Emotion di Mariah Carey potevano tutte e due usare un po' di più. Trinity è inspiegabilmente molto accomposta e posata con qualche momento vagamente simpatico. Monique invece è molto più energica e si sbatte un casino. Fa anche una gag con la parrucca che le vola via e RuPaul alla fine poi la riprende su questo dicendole di incollarsi la parrucca. Io penso che fosse una cosa voluta visto che c'erano dei brillantini che volavano. Sta di fatto che vince Trinity e vabbè e decide di mandare a casa Jasmine. E concordo appieno con questa scelta perché a me sembra che Jasmine per quanto possa avere una grande personalità online trovo che non sia a livello All Stars come tante altre. Anyway qualcuno deve comunque andare a casa per primo no? Ma adesso voglio sapere cosa ne pensate voi di questa nuova stagione e di questo primo episodio. Lasciatemi un commentino qui sotto e dite a tutti i vostri amici dragosi di seguire le review ogni settimana. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo episodio. Bye ziiiis!